Se c'è qualche domanda, qualche curiosità, non vorrei farle perdere il tempo prefissato, poi cercheremo naturalmente di sapere qualcosa di più anche di questa sua scelta lavorativa, forse anche una scelta di vita. Prego. Possiamo usare i pietri? Possiamo usare delle pietre, dei sassolini di colori differenti? Anche i sassi assolutamente, i primi mosaici infatti venivano fatti con i sassi di fiume o con le pietre che trovavano in natura senza tagliarle, per cui è possibilissimo. Questo evento di oggi si collega con un laboratorio di arte visiva che Artesella con la cooperativa Cucenella ci ha proposto ieri in cui i ragazzi erano chiamati non tanto a realizzare dei mosaici ma delle opere d'arte con degli strumenti, con dei materiali naturali. Ecco, Marisa, da piccola noi ce la immaginiamo un po', lei era una di quelle persone che prendono un quaderno a quadretti mentre la maestra parla di matematica si mette a colorare facendo fuori tutte le punte delle matite, è così? Più o meno sì, all'incirca è così, sì sì, assolutamente. C'era dentro, vedo la mamma che annuisce. Abbiamo un ecco...